Il percorso ascetico di Don Giuseppe lo portò a un certo punto a leggere in sé il desiderio di dare la vita, di dare la vita in riparazione al male del mondo, dare la vita a favore del suo popolo in gratitudine al Signore che aveva dato a Lui la vita e il sacerdozio. Si ricordano tre momenti in cui Lui fece questa pubblica offerta. Il primo a Ferriere, in cui predicando un triduo in preparazione alla consacrazione della parrocchia al cuore immacolato di Maria, Lui offrì la sua vita per l'efficacia di quella predicazione e per quella gente che lo stava ascoltando. La seconda volta in questa chiesa, il giorno in cui battezzò i membri della famiglia Ben Sion di Belgrado, ebrei. In quel giorno, che fu uno dei più belli della sua vita, a quanto testimoniò una sua figlia spirituale, Don Giuseppe offrì la sua vita al Signore chiedendo il dono della conversione, della protezione di queste persone. La domenica prima di essere ucciso, Don Giuseppe abbracciò una croce e fece questa preghiera pubblica, questa invocazione pubblica a Dio. Se servisse ancora del sangue versato per far cessare questa guerra, per riconciliare gli animi, Signore prendi il mio, innocente, e offrì la sua vita per i suoi parrocchiani. Nessuno degli abitanti di Sidolo morì durante il rastrellamento. Questa è la porta della canonica di Sidolo. La sera del 19 luglio 1944, al di là di questa porta, c'erano Don Giuseppe, Savina e il seminarista Italo Subacchi. Attorno c'era il rastrellamento che stava salendo, c'era un clima di grandissima confusione, disperazione. Don Giuseppe era stato avvertito di fuggire, come tutti gli altri uomini, ma lui aveva preso la decisione di rimanere. Si presentò a questa porta, bussò a questa porta, verso sera, un sacerdote che scappava dalla mattina. Si chiamava Francesco del Nebo, era al parco di Porgigatone. Non era mai stato qui, ma vedendo il campanile pensò di chiedere ospitalità a Don Giuseppe. L'ultima notte di Don Giuseppe viene vissuta in questa piccola stanza. È una notte di accoglienza, perché oltre a Don Francesco arriveranno anche dei brugateresi in fuga, poi arriveranno dei partigiani. Ma Don Giuseppe ha la consapevolezza che l'offerta della sua vita sarà presto esaudita. Lui si interfaccia con Don Francesco e con Italo, il seminarista, e continua ad esortare ad andarsene, a lasciarlo solo, ad andarsene. Ma loro vedono come lui è tranquillo, come sta nella volontà di Dio, e anche loro decidono di rimanere. Allora passano in chiesa e si mettono davanti al Santissimo in preghiera. A un certo punto della notte, Savina Beotti ricorda che Don Giuseppe ha un pensiero, torna in casa, prende un taccuino dove aveva assegnato gli indirizzi degli ebrei e degli inglesi che aveva ospitato e lo brucia per non comprometterli. Ancora lei continua a chiedergli di mandare via i ragazzi di Borgotaro, perché dice magari i tedeschi arrivando li trovano e poi fanno del male a noi. Ma Don Giuseppe un po' non le risponde, un po' quando poi è costretto si gira e dice Savina, tu hai sentito che cosa diceva la parola di Dio dell'Eucharistia che abbiamo celebrato? Spezza il tuo pane con l'affamato, porta in casa il derelito. Don Giuseppe poi si cambia completamente, si veste di nuovo e la sua sorella gli chiede perché, dice perché quando sarò morto, presto, dice non voglio che mi tocchi nessuno. Allora la sorella è disperata, insomma, dice Don Giuseppe cosa dici? Dice guarda il Signore mi sta dando una pace, una pace profonda, una pace profonda. Dice sono disponibile a fare quello che vuole lui. Io credo che qui Don Giuseppe raggiunge la sua maturità, la sua perfezione. Alla fine che cos'è la perfezione cristiana? È la coincidenza della propria volontà con quella di Dio. Il percorso ascetico di Don Giuseppe finisce qui, finisce in questa notte. È una notte del Gezzemani, ma è anche una notte di grazia e di preparazione bellissima. Quando arriveranno i tedeschi la mattina, lui, e lo metteranno al muro, lui avrà ancora la forza di scherzare. Gli diranno, dopo la perquisizione della canonica, dopo aver messo a soccuadro questa piccola stanza e tutte le altre, gli diranno non abbiamo trovato armi, pastore. Allora lui tirerà fuori, tra un attimo di incertezza dei tedeschi che imbracciarono i fucili, tirerà fuori un coltellino e dirà, ecco, pensavo di difendermi con questo coltello. Rideranno tutti, ma questo durerà poco perché poi lo trasporteranno lui, porteranno lui, Don Francesco e Italo al di là del rio. Questa terra è stata bagnata dal sangue di Don Giuseppe, di Don Francesco, di Italo, che prima di morire ha detto all'uccisore, anche se mi uccidi, io ti perdono. E c'è una tradizione della Chiesa orientale che dice che nel giorno del giudizio chi ha versato il sangue dei martiri dovrà aspettare il perdono dell'ucciso. solo il martire potrà dargli questo perdono davanti a Dio. Noi pensiamo che Don Giuseppe l'abbia dato perché era pronto. Era pronto, aveva compiuto la sua vita, una vita che è durata 32 anni, ma che è stata una vita piena, felice e che donata a Cristo ha potuto essere donata anche agli altri. Ecco qui che poteva essere un luogo di silenzio, un capolinea, è diventato invece un luogo di partenza. perché da questo luogo è cresciuta una fama di santità legata a Don Giuseppe che non è stato possibile contenerla o chiuderla o impedirla. Una fama che arriva oggi a far dire alla Chiesa che la storia di Don Giuseppe e la sua vita è un patrimonio del mondo intero. che facendo come ha fatto lui, cercando di fare il bene, pregando nel posto in cui la vita ti mette, lì il Signore ripaga tutto questo con un fiume di grazie. Alla fine la felicità che Don Giuseppe ha trovato è quella pace profonda che dà lo Spirito Santo, la consapevolezza di essere in comunione con Dio. Giuseppe, Don Francesco e Italo, dalla Chiesa, vengono portati qua a mezzogiorno sotto il sole e vengono guardati da un soldato. Per tre ore vengono lasciati sotto il sole, in piedi. Poi probabilmente ricevono l'altro gruppo di tedeschi che era rimasto in paese, stava razziando il paese, ricevono l'ordine dell'esecuzione, quindi si congiungono tutti i tedeschi. Don Giuseppe capisce che sta per morire, allora chiede a Don Francesco di confessarlo. Don Francesco lo assolve e anche Don Francesco allora chiede la confessione, confessano, assolvono Italo e poi si abbracciano. E questo abbraccio sacerdotale credo che sia l'ultimo segno, l'ultimo insegnamento di Don Giuseppe, questo amore per i confratelli, per questa unione di presbiteri che è disposta a donare la vita per il popolo. Grazie a tutti.